Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial su Electronic Arts come risolvere gli errori che la EA non fa mai per risolvere quindi non lascio neanche aggiornamenti per risolvere gli errori all'avvio dei giochi su questo launch e ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale e di lasciare un like se il video è stato utilissimo ho avuto problemi ad avviare Battlefield 4 cercando un po' in giro sono riuscito a risolvere questo errore grazie a una modifica di variabili di ambienti relative al sistema quindi cerca variabili di ambiente ti porterà su questa scheda del sistema proprietà del sistema scendi fino a giù fino a trovare questo variabili di ambiente ovviamente qui ci sono tutti i file che interrompono alcune applicazioni e che non ti permettono di avviarle quindi se in questo caso avete un file di nome game data dir cancellatelo ok? quindi se avete questo tipo di file game data dir fate su elimina chiudete tutto e riavviate il vostro sistema e se in questo caso non dovesse funzionare quel file dopo averlo eliminato ti consiglio di andare sul gioco fare su gestisci e fare una riparazione quindi quindi ora non mi resta che avviare il gioco perché adesso funziona perché io ho cancellato quel file game data dir che interrompeva così l'applicazione vado su gioco ed eccolo qua e il gioco funziona perfettamente quindi come ho detto se in questo caso non dovesse funzionare questo file game data dir che non ti funziona dopo averlo eliminato fai la riparazione ed eccolo qua senza nessun problema ho riscontrato quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi iscrivetevi al canale lasciate like e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao